oggi facciamo un allenamento solo sugli addominali breve ma intenso faremo 5 esercizi ogni esercizio durerà 30 secondi mi raccomando gli esercizi vanno fatti di seguito uno dopo l'altro finiti i 5 esercizi fate una pausa di un minuto e poi ripetete il tutto per 4 5 volte dipende dalle vostre capacità cosa vi serve un materassino e se avete anche un asciugamano va benissimo lo stesso e un cronometro per prendere il tempo dei 30 secondi mi raccomando questi esercizi fateli tutti i giorni con il mio cronometro mi raccomando non vi ho detto una cosa importante un piccolo riscaldamento un jumping jack o uno skip pronti iniziamo col primo esercizio per gli obliqui 30 secondi ginocchio al petto sulle spalle da qui tallone e vado con la spalla opposta verso un piccolo esercizio così uno due tre mi raccomando pace dentro un belissimo contro la colonna e il calzone vai e e e e e e e uno due tre e secondo esercizio Inizio, blanca, mi raccomando stringo bene i palloni, anche questo, tra i passi corti e vado, e crocio dietro. Ok, terzo esercizzo. Mano opposta alla capiglia. Forte esercizio. Buongiorno. Quinto è l'ultimo esercizio. Rilassatevi un attimo, allungate. Per qualche secondo. Recuperate l'ultimo esercizio e ripetete tutto cinque volte. Grazie e ciao! Ciao!